Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it L'albumina è una proteina molto importante che circola nel nostro sangue e che ha diverse funzioni Una sua presenza nelle urine però è indicativa di problemi renali Diagnosticare precocemente la presenza di piccole quantità di albumina nelle urine è importantissimo per la vita di questi pazienti In questo video capiamo cos'è l'albumina, dove viene prodotta e quali sono i suoi compiti Capiamo anche perché aiuta a comprendere lo stato di salute dei reni, come se effettua l'esame e per quali pazienti è indicato Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grandissimo aiuto L'albumina è una proteina presente anche nell'albume dell'uovo, dal quale prende il nome Nel nostro organismo viene prodotta dal fegato e svolge diversi compiti Tra le sue principali funzioni c'è sicuramente quella di trasportatore di altre molecole L'albumina infatti è in grado di legare molecole sia prodotte dall'organismo che introdotte dall'esterno Tra le molecole che trasporta ci sono gli acidi grassi, la bilirubina, diversi ormoni e anche farmaci e molecole potenzialmente tossiche L'albumina è anche in grado di legare i radicali liberi, svolgendo così un'importante azione antiossidante La destinazione del viaggio è costituita dai reni dove l'albumina rilascia ciò che va eliminato per poi tornare in circolo nel sangue a continuare il suo prezioso lavoro L'albumina regola anche la pressione oncotica plasmatica, cioè quella pressione che permette la corretta distribuzione dei liquidi tra l'interno e l'esterno delle cellule Grazie alla sua capacità di donare sia cariche positive che negative, l'albumina è anche in grado di regolare il pH del sangue La concentrazione dell'albumina può essere misurata sia nel sangue che nelle urine La presenza dell'albumina nel sangue è perfettamente normale, dato che costituisce circa il 50-60% delle proteine plasmatiche I valori considerati normali sono compresi tra 3,5 e 5,5 grammi per decilitro Ma chiaramente bisogna far riferimento al proprio referto perché può esserci una certa variabilità tra un laboratorio e l'altro In genere valori bassi possono essere correlati al digiuno o al malassorbimento Mentre nei casi più gravi possono indicare i problemi al figato Valori più alti invece sono rari e possono essere correlati alla disidratazione Come abbiamo visto l'albumina arrivata ai reni rilascia le sostanze da scartare e torna in circolo Nelle urine quindi non si dovrebbe trovare albumina Se si trova vuol dire che c'è un problema a livello dei reni, cioè il sistema di filtro non funziona più Per fare un esempio molto grossolano immaginiamo che i reni siano uno scolapasta e l'albumina gli spaghetti da scolare Se rovesciando la pentola con gli spaghetti questi vanno a finire nel lavandino Ci rendiamo conto che lo scolapasta è rotto, oltre ad avere una bella seccatura nella preparazione del pranzo Misurare l'albumina nelle urine quindi ci permette di individuare molto precocemente i problemi ai reni Questo tipo di analisi va effettuato in tutti quei pazienti che hanno una maggiore possibilità di sviluppare malattie danno renale Come pazienti diabetici e ipertesi, ma anche nelle persone anziane, nelle donne in gravidanza O comunque in tutti quei casi in cui il medico ne ravvisi la necessità Anche la frequenza dei controlli va stabilita paziente per paziente L'albumina nelle urine può essere misurata su campioni prelevati al primo mattino O ad intervalli regolari indicati dal medico o ancora sulla raccolta delle urine nelle 24 ore L'accuratezza dell'esame può essere migliorata correggendo i valori di albumina con i valori di creatinina Della quale abbiamo già parlato in questo video Come sempre i valori da rispettare vengono indicati nel referto Ma vediamo quali vengono considerati normali e quando invece preoccuparsi Il valore considerato normale per l'albumina nelle urine è la sua assenza A seconda della tipologia di esame effettuata poi esiste un range di valori Entro il quale si parla di microalbuminuria Cioè la presenza di un'esigua quantità di albumina nelle urine Ad esempio, se la raccolta è stata effettuata nelle 24 ore, questo intervallo è compreso tra i 30 e i 300 mg per litro Valori compresi in questo intervallo vengono interpretati come un campanello d'allarme molto importante Se ancora è in tempo per intervenire e cercare di tenere sotto controllo la situazione Quando i valori sono ancora superiori la situazione è sicuramente più grave e il danno renale è conclamato Sarà il medico a stabilire il da farsi Abbiamo visto cos'è l'albumina, quali ruoli svolge e perché è così importante per la diagnosi precoce di danni ai reni Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te